Equipaggiamenti non idonei per l'intervento, questa è la notizia che dirama il sindacato dei Vigili del Fuoco. Una questione che trova evidenza nelle immagini dei soccorsi, poco agevoli i movimenti in una situazione di grande pericolo e soprattutto una situazione che necessitava di velocità nelle operazioni. La nostra necessità che in qualche maniera evidenziamo per quanto riguarda questi tipi di attività è sicuramente una dotazione più idonea a poter svolgere questo tipo di servizio. Un abbigliamento sicuramente più leggero, scarponcini, antiscivolo, in maniera tale che il soccorso deve essere agile in queste circostanze. Non si possono vedere quelle immagini in cui c'erano colleghi sicuramente ben dotati per tipo di professionalità che avevano sviluppato, ma altri colleghi che ahimè si muovevano goffamente ed erano in equilibrio precario proprio per attrezzature totalmente differenti che sono idonee al soccorso tecnico urgente in località diverse da quelle quindi in ambito cittadino, urbano, extraurbano, però non in quel tipo di attività. Interventi straordinari nella durata e nella difficoltà delle operazioni personali provato dalla fatica e tante le immagini degli uomini che riposano appoggiati a sedi o seduti a terra per poi ripartire in direzione dell'hotel Rigopiano per continuare le ricerche. Le ore e le risorse mani che vengono impegnate sono tante. Si parla di minimo 24 ore per arrivare in alcuni casi a 34-35 ore consecutive di servizio. La mancanza di dotazioni adeguate può aver reso più difficili anche le operazioni, anche la fatica? Sicuramente lo stress psicofisico incide quando ci sono situazioni già di per sé stressanti per il tipo di lavoro ma anche per le difficoltà che si incontrano nel lavoro.